L'accordo sui diritti tv della Serie A, che ricordiamo prevede tutte le partite su Dazon e 3 in coesclusiva su Sky, scadrà nel 2024. Ma in Lega Serie A si comincia già a ragionare su quale sarà il futuro. E su questo canale vi ho anticipato due tendenze che, guarda caso, nelle cronache di questi giorni stanno uscendo. Stanno uscendo le preoccupazioni della Serie A di avere un accordo a ribasso e le necessità delle televisioni di avere un accordo che sia allineato alle attese di chi investe tanto sul prodotto. Ne parliamo diffusamente oggi in questo contenuto per fare il punto su cosa bolle in pentola in tema di diritti tv di Serie A. Buongiorno, bentornati sul canale. I diritti tv sono un tema che solitamente affrontiamo in maniera molto diretta e molto precisa. Qualcuno di voi ricorderà sicuramente che nelle scorse settimane ho fatto chiaramente riferimento al fatto che i diritti tv in generale vanno verso due evoluzioni possibili e credo auspicate e auspicabili. Una è quella dell'allungamento degli accordi perché le televisioni e le piattaforme che investono molto nei diritti fanno fatica a ritornare dagli ingenti costi che sostengono, quindi ad avere un ritorno sull'investimento opportuno in soli tre anni. Non a caso, nel momento in cui è scoppiato il Covid, l'Inghilterra ha subito scelto di allungare i contratti in essere, concentrandosi poi sui rinnovi all'estero. E questo ha portato infatti a diritti tv esteri della Premier League che fanno incassare più dei diritti tv nazionali, domestici. Di contro c'è la necessità anche di rivedere il tema territoriale, ovvero come le piattaforme possono distribuire questi diritti che sono in questo momento chiaramente spezzettati e spacchettati su diversi paesi. Ma questa seconda cosa rimane sullo sfondo. Quel che ci interessa è che dalle cronache di questi giorni esce l'idea che quando nel 2024 scadrà il contratto attuale per la trasmissione delle partite del campionato, la Serie A prevede e rischia in questo momento una flessione del 30% delle offerte che potrebbero andare in porto. Il rischio è anche legato al fatto che, dice Repubblica ad esempio, l'accordo di tre anni solo, che è previsto peraltro dalla legge Melandri, quindi non si può fare diversamente oggi, garantisce un margine troppo stretto per pensare di ammortizzare l'investimento. Ecco allora che si sta pensando ai cinque anni e da questo punto di vista ci sono due scenari fondamentalmente. Il primo è quello di legare, è il famoso scenario che viene sempre paventato, ovvero quello di rendere totalmente indipendente la Serie A dalla sfera politica e quindi come una normale azienda indipendente e quindi non legata alla federazione, fare in modo che la Serie A possa fare le sue regole. Di contro c'è la mossa politica con una riapertura della riforma Melandri, sul quale Claudio Lotito si è personalmente impegnato in prima persona e quindi vorrebbe appunto intervenire con, in primis, la possibilità di allargare a cinque anni l'accordo. Questo va comunque nella direzione che vi dicevo. È chiaro che io personalmente credo che il poter liberare completamente la Serie A dalla dinamica politica e parlamentare sia meglio, penso che sia meglio avere una Serie A come la Premier League che fa le sue regole, che sceglie il suo futuro e il suo destino. Ma tant'è, oggi questo è lo scenario e lo scenario vede questa situazione con anche una ipotesi che è quella di strutturare la Lega in una media company. Media company che è nel mirino, peraltro, dei fondi. Sta tornando sempre più d'attualità l'idea che ci possano essere dei fondi che investano nel calcio italiano. E perché i fondi vogliono investire nel calcio italiano? Per lo stesso motivo per cui diversi fondi e diversi investitori hanno investito nei club italiani. Perché la realtà del nostro calcio è che a prescindere dai numeri assoluti il nostro calcio può essere profondamente riformato dall'interno nell'approccio, in quello che dà e può diventare un qualcosa di redditizio. Un fondo tipicamente interviene non tanto per essere il primo al mondo. Ai fondi non interessa che la Serie A sia meglio della Premier League. Ai fondi interessa che la Serie A si posizioni e che la Serie A diventi redditizia. Questo è quello che interessa all'investitore, al quale interessa mettere dei soldi e ricavare più soldi, semplicemente. Quindi non c'è qui il tema famoso A, la Serie A, A, la Premier League, loro sono più grandi, quando saremo grandi come loro, eccetera. C'è un tema molto chiaro che è il riposizionamento della nostra Serie A, prima di tutto da un punto di vista interno o domestico, e poi una ridefinizione del brand Serie A sul lato internazionale. Ecco, questo è quello che sta accadendo, ma volevo rivendicare in qualche modo quel che dicevo nelle scorse settimane, ovvero questa necessità delle TV di fare accordi lunghi. Non è un caso se, ad esempio, recentemente l'Arsenal ha rinnovato per dieci anni il contratto con Adidas a 85 milioni. Ecco, è un altro tema, ma è un tema fondamentale. 85 milioni, dieci anni. Cioè, ormai si va verso queste partnership molto lunghe. Chi segue gli sport americani sa che gli accordi televisivi si fanno per lunghi periodi, proprio perché la sostenibilità dello sport, la garanzia di ricavi, è quello che prioritariamente genera il beneficio di una lega, il beneficio di un club, la capacità di un club e di una lega di fare utili, di avere un loro bacino d'utenza. Ecco, questo è quello che sta accadendo anche nella nostra Serie A. Siamo al secondo anno dell'accordo, ma siamo già con la mente proiettata oltre. Il mio auspicio è sempre quello che torni in ballo tutto quanto, anche la territorialità dei diritti, perché la Serie A potrebbe fare un qualcosa di davvero clamoroso, vendere a livello mondiale i diritti ad un'unica piattaforma, magari poi per essere rispacchettati, perché ormai vedete che le esclusive sono un qualcosa su cui tutti poi tendono a riguadagnare soldi, ma la realtà è questa. Il mio auspicio è che ci sia un contratto lungo, quindi che la Serie A presto possa godere magari di una melandri riformata, se non di una libertà totale ad autodeterminarsi, e poi di contro un occhio strategico a fare un accordo globale, in modo che se voi avrete dal 2024-25 in poi un solo abbonamento, potrete vedere la Serie A in tutto il mondo. È un tema non secondario anche perché l'eventuale investitore, l'Apple, Disney, Amazon di turno, che potrebbe entrare in un business del genere, avrebbe poi a quel punto tutto l'interesse non solo a produrre le partite, ma anche investire ulteriormente sul prodotto. Questo è quello che volevo quest'oggi sottolineare, ripeto, rivendicando che le dinamiche che ho indicato finora come dinamiche di assoluto interesse per tutti e inevitabili sul futuro dei diritti TV, stanno tornando chiaramente d'attualità. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, buona giornata a tutti e a presto sul canale.